Ballando con le stelle, Giovanni Pernice, vita privata, segreti ed accuse La nuova edizione di Ballando con le stelle del 2024 ha acceso i riflettori su una coppia che promette grandi emozioni, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero. Tuttavia, la partecipazione del celebre ballerino non è stata priva di polemiche. Giovanni, infatti, è stato al centro di uno scandalo che ha segnato il suo percorso professionale nel Regno Unito, dove ha preso parte al noto programma Strictly Come Dancing, l'equivalente britannico dello show di Millie Carlucci. L'accusa di bullismo mossa da una sua ex allieva ha portato alla sua eliminazione dal format inglese, sollevando dubbi anche sulla sua partecipazione in Italia. Nonostante questo, la conduttrice Millie Carlucci ha chiarito la sua posizione con fermezza. Per lei e il suo team, l'accusa non ha trovato riscontro. La BBC, pur essendo un'azienda estremamente rigorosa, non ha trovato elementi tali da vietare la partecipazione di Giovanni allo show italiano. Giovanni Pernice nasce a Palermo il 5 settembre 1990, e fin da giovanissimo si dedica alla danza. All'età di 14 anni si trasferisce a Bologna per perfezionare la sua tecnica nei balli latini, tra cui samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble e give. La sua dedizione e il suo talento lo portano a competere in tornei prestigiosi come gli Open di Pieve di Cento, Ancona, San Marino e Sant Cugat del Vallès. Nel 2015, la grande svolta, viene scelto per partecipare a Strictly Come Dancing, dove ottiene un successo immediato, danzando al fianco di star della televisione britannica. Uno dei momenti più importanti della sua carriera arriva nel 2018, quando conquista la finale del programma Ballando con la cantante Fayeto Zer. Oltre a essere un volto fisso della televisione, Giovanni è anche un performer di grande spessore. Ha creato spettacoli itineranti come Dance is Life, dove fonde il suo amore per i balli latini con l'arte teatrale, portando le sue esibizioni sui palcoscenici di tutto il mondo. Con oltre un milione di follower su Instagram, Pernice condivide la sua vita professionale, e negli ultimi tempi ha dedicato particolare attenzione alla sua collaborazione con Bianca Guaccero, sua compagna di ballo in Ballando con le stelle 2024. Per la Guaccero, nota conduttrice televisiva, questa è la prima volta sul palco del dancing show in una veste completamente inedita. Nonostante il suo successo, la vita sentimentale di Giovanni è stata sotto i riflettori. Tra il 2018 e il 2020, ha avuto una relazione con Ashley Roberts, cantante e ballerina delle Pussycat Dolls, conosciuta anche per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing. Al momento, non ci sono notizie certe riguardo alla sua situazione sentimentale, ma sembra che Giovanni sia single, così come Bianca Guaccero. Tra i due, c'è un'intesa palpabile sulla pista da ballo, ma resta da vedere se questo feeling resterà solo professionale o se si trasformerà in qualcosa di più. Giovanni Pernice ha costruito una carriera solida e affascinante, specializzandosi nella danza sportiva e diventando una figura di spicco sia in Italia che all'estero. La sua partecipazione a Ballando con le stelle è un nuovo capitolo che non mancherà di regalare emozioni, sia per il suo talento, sia per il legame con la sua partner di ballo. Il caso di Giovanni Pernice e la sua storia personale ci invitano a riflettere su quanto sia importante distinguere tra accuse e realtà. La sua passione per la danza ha superato ostacoli e controversie, portandolo a essere un artista completo e stimato. Secondo voi vincerà questa edizione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio